E di due arresti il bilancio dell'operazione effettuata dalla Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia nella serata di lunedì. Gli agenti nel transitare in via del Centenario a Battipaglia hanno notato un'autovettura di colore nero con a bordo tre giovani provenienti da un rione limitrofo frequentato da spacciatori e assuntori di droga. In immediata è scattata l'identificazione delle persone presenti all'interno, un ventenne, un diciottenne ed un ventiquattrenne, tutte e tre di Battipaglia. Questi ultimi due sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare. Tale operazione ha permesso di trovare, per quel che concerne il diciottenne, 12,5 grammi di hashish suddivisi in dieci dosi, oltre ad una somma di denaro provento dell'attività illecita, un bilancino digitale ed altro hashish all'interno di un pacchetto di sigarette. A seguito della perquisizione personale e domiciliare operata a carico del 24enne invece, venivano rinvenuti 49 grammi di hashish, un bilancino digitale, un coltello a serramanico, una lama e due lamette da barba utilizzati per confezionare le singole dosi. I due giovani sono stati tratti in arresto in quanto ritenuti responsabili del reato di spaccio di droga in concorso tra loro e condotti presso le rispettive abitazioni agli arresti domiciliari. I due giovani sono stati tratti in quanto ritenuti, uno non è fatto che in quanto ritenuti, un bilancio di rispettiva, un bilancio di rispettiva, un bilancio di rispettiva, un bilancio di rispettiva e un bilancio di rispettiva.